Buongiorno a tutti gente povera e ben ritrovati in questo nuovo video! Oggi andremo a parlare della top 10 dei consigli per migliorare su Fortnite. Quindi iniziamo subito! Utilizzare sempre l'ambiente circostante ha proprio vantaggio. E questo non vuol dire solo le montagne, gli alberi, le rocce, le case, le cose, ma anche la tempesta. Perché la tempesta fa male e quindi tu devi stare fuori dalla tempesta. Però tu puoi usare la tempesta contro i tuoi nemici. Quindi se ad esempio tu sei fuori dalla tempesta e stai tipo sul bordo, tu puoi sparare la gente che esce, che sarà mega debole e le ammazzi in un secondo. Poi vabbè, ci sono i posti in alto dove puoi sparare, tipo le montagne enormi. Questo è un consiglio un po' bananozzo, però deve essere detto. Voi dovete sempre, sempre raccogliere materiali. Bisogna sempre, 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 in modo migliore dare in giro e picconare gli alberi. E, però, la gente, di solito, li distrugge. Soprattutto quelli grossi. Voi non dovete distruggere gli alberi grossi, perché la gente vi vede. Madonna, vi vede. Vi vede da due chilometri, come se sparate un razzo segnalatore. Vi vedono tutti, vi vedono, vi vedono tutti. Non usare il cespuglio. Il cespuglio è una cagata pazzesca. La gente ti vede, ti vede, non è che sei invisibile, ti vede. Come se io mi metto una maglietta camo e vado in giro e dico che sono invisibile. Non è vero, non è vero. Tu sei un bersaglio, come se avessi un bersaglio in testa. Sei così grosso, con quelle foglie verdi che ti escono nelle orecchie. Che madonna, anche uno cieco ti vede. Non metterlo. Non metterlo. E poi se anche per caso riesci a sopravvivere, magari sei l'ultimo insieme a un altro, lui comincerà a sparare ai cespugli perché non ti trova più. E prima o poi beccherà te e sarai morto come un coglione. Questo è un consiglio, diciamo, parale, come tutti gli altri, perché tu sei un tizio che vuole fare bene su Fortnite. Lo sappiamo tutti. Non so se si dice Fortnite, non so come si dice. Però, tu atterri nei posti affollati perché sei una scoreggia mal cagata. Tu non devi farlo se sei un loop di merda. Non puoi. Anch'io sono un loop di merda. Io non atterro a pinnacoli pendenti. Vabbè, mi viene in mente solo quello. Però a pinnacoli pendenti ci cadono in duemila. In duemila ci cagano. Ci cagano, cadono. Tu quando atterri a pinnacoli pendenti vedi come la pioggia di persone Cazzo, saranno in cinquanta. Ci sarà metà partita lì. Tutti lì. Cristo. Tu devi andare. Dove la gente non ti caga. Tipo nelle pagode. Nelle pagode vicino alle città. Poi vai nelle città dove ammazzi la gente che tipo si sono già uccisi fra di loro e quindi non fai le cazzate e non muori malissimo. Questo è il consiglio utile. Wow, ma davvero? Perché tutti gli altri non lo sono stato. Però voi dovete saltare e accucciarvi. Saltare e accucciarvi. Saltare e accucciarvi. Saltare e accucciarvi. Sennò morite malissimo. Se siete con lo shotgun e state fermi come delle statue vi sciottano in due vi spaccano vi aprono a metà vi mangiano ne budella e poi le buttano in mare. Non potete. Dovete saltare e schivare accucciandovi. Capito? Capito? Usare gli esplosivi è una cosa bella. Perché è una cosa bella? Perché quando li usi sei potente perché sciottano la gente. Capito? tu spari un razzo alla Wackbar e muoiono. Muoiono. Anche una granata. Anche con lanciagranate. Muoiono. Muoiono. Muo-io-no. Scompaiono dalla faccia della terra. Tu li devi sciottare altro che shotgun in faccia. Tu gli spari un raggio in faccia. Madonna. Sai dove vanno? sai dove vanno? A mon culi vanno. Non usare il deltaplano grosso. Capito? Non lo devi usare il deltaplano grosso. Cosa intendo per deltaplano grosso? Per deltaplano grosso intendo Er Bareforce One e correggi nome. Quei due saranno anche fighi. per l'amor di Dio. Però va bene quando atterri nel primo momento nessuno ti spara perché staranno staranno prendendo la roba. Quindi sei al sicuro anche se c'hai una roba grossa come il mondo sopra la tua testa. Però in endgame quando devi usare jump head per andare a qualche parte la gente c'è anche anche uno che c'ha i ritardi mentali ti vede anche uno lento lento che è cieco che è cieco ti vede se tu gli arrivi da dietro ti vedono lo stesso da quanto è grosso c'è ti ammazzano ti ammazzano con quella roba lì signori questo è un consiglio ma non è un consiglio perché doveste saperlo da soli ma io non so neanche perché ve lo sto a dire perché se non lo state facendo siete dei coglioni lasciatevelo dire il consiglio è usate le cuffie usate le cuffie se non usate le cuffie morite morite perché se non usi le cuffie la gente non la senti se ti arriva da dietro non la senti e muori 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 malissimo malissimo ti sparano in testa e muori 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 signori dovete dovete e basta usare i settings i settings anche chiamati opzioni è un fattore chiave un fattore chiave voi dovete se siete dei noob 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 dovete usare la sensibilità passa molto 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 passa perché prendete meglio la mira dice se siete dei pro e non so perché state guardando sto video se siete dei pro la dovete alzare perché così potete muovervi di più fare più cose capito? eh bravi quanto siete bravi poi anche i fotogrammi per secondo non sono importanti eh sarebbe meglio tenerli sullo schermo però fa niente e per ultimo per ultimo sapete cosa c'è? lo sapete? ci sono le costruzioni sì signori perché lo sapesse fornite è come un qualsiasi altro gioco battle royale con un'unica eccezione puoi costruire ma davvero non li sapivo eh bravi se lo sapevate siete intelligenti bravissimi però voi se andate a vedere i streamer americani o inglesi oppure anche ciccio game eh li andate a guardare ninja myth dakotas li andate a guardare loro madonna costruiscono altro che i altro che bob il costruttore madonna costruiscono così tanto che boh fanno fanno degli aborti che che non si regolano né in cielo né in terra ma poi in un modo o nell'altro uccidono la gente non so come però è così anche le trappole le jump pads bisogna usarli le trappole lasciatele in giro non tenetele tutte per la fine che non servono a niente lasciatele in giro così un tizio che magari sarete anche voi entra in una casa e dice ah che bella sta casa la cerchiamo in giro lutiamo un po' BAM sei morto perché una trappola ti è arrivata in testa coglione e niente un video bello molto bello si molto bello se vi è piaciuto questo video date un pugno a quel like e anche a vostra madre noi ci rivediamo in un prossimo video